Questa mattina ci siamo trovati con il Presidente della Regione, Alberto Cirio, nell'unità di crisi del coronavirus presso le sale della protezione civile, a fare il punto attuale, dubbiamente la situazione è sotto controllo, fortunatamente dal Ministero e l'Assessorato alla Salute, l'Assessorato alla Sanità e i Cardi, costantemente, grazie alla protezione civile, da una settimana stanno controllando caso per caso. Abbiamo necessità però di fare il punto costantemente nelle prossime giornate, col Presidente Cirio e con tutti i gruppi di maggioranza e opposizione in Consiglio regionale, l'appello sicuramente ai tutti i cittadini di mantenere la calma, di utilizzare i canali istituzionali per le notizie medesime e puntuali, dubbiamente c'è stato istituito dalla Regione Piemonte il numero verde che è l'819-2020, ripeto, 819-2020, che attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risposte e anche eventualmente fare quelle preliminari visite telefoniche, come può essere il preage telefonico, per cercare di capire cosa fare e dove andare. Ringrazio particolarmente tutti gli operatori, perché da venerdì incestantemente che tengono sotto controllo la situazione in Piemonte e un ringraziamento a tutti gli operatori, come dicevo, e soprattutto anche tutti i funzionari che oggi, come oggi, stanno dando risposte precise e puntuali a tutti i cittadini piemontesi.